Con 11 richieste di costituzione di parte civile, tra cui quelle del piccolo Eitan della regione Piemonte del comune di Stresa e l'uscita dal processo di gran parte dei familiari delle vittime in quanto risarciti, ha preso il via a Verbagna l'udienza preliminare sulla tragedia del Mottarone, nella quale nel maggio di tre anni fa persero la vita 14 persone. Udienza in cui gli imputati sono otto e alla quale a sorpresa si è presentato anche Jmuel Peleg, il nonno del piccolo Eitan, il solo ad essere sopravvissuto. Nell'aula, allestita alla Casa della Resistenza di Fondo Toce, si è incardinato il procedimento a carico di Luigi Nerini, titolare della Ferrovie del Mottarone Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, allora rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto Anton Seber, presidente del CDA di Leitner, Martin Leitner, consigliere delegato, e Peter Robbenzer, responsabile del Customer Service, oltre alle due società. Al GUP Rosa Maria Fornelli sono state avanzate le istanze di chi intende chiedere i danni, come i parenti di Serena Cosentino e l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, un elenco che in questi mesi si è spoltito assai e che ora comprende 11 nomi. Tutti gli altri sono invece usciti da processo, poiché il gruppo alto tesino ha chiuso le trattative risarcitorie.